ma salve buon godo dei di giugno incredibile col caldo assurdo dei ragazzi pazzesco assurdo allucinante siamo giornati già in un episodio delle quattro chiacchiere di godo incredibile pazzesco assurdo e se vede quando dico incredibile pazzesco assurdo vuol dire che c'è del godo nell'aria potete sentire un odore oltre del pranzo mio che mi aspetta ragazzi che sto registrando questo video incredibile ad un orario molto su se c'ho una fame bestiale e il mio pranzo mi aspetta in maniera incredibile quindi questo sì è odore di godo ma è anche odore del mio pranzo incredibile prima cosa la settimana x che vi avevo detto di giugno dove potevano mancare video perché appunto avevo degli impegni extra avevo un esame da fare che è andato anche bene e nonostante tutto in quella settimana incredibile a parte un giorno che era il giorno in cui mi dovevo alzare presto per andare a fare esame sono usciti sempre un video al giorno più uno short al giorno ragazzi qui il ritmo non cala nonostante gli impegni incredibili extra nonostante tutte le cose che ruotano attorno alla mia vita godosa ragazzi il ritmo sul canale non manca e vedrete che adesso ragazzi il ritmo potrà solo che aumentare o anche una settimana a luglio un pochino susso però spero di registrare un po' di video prima così anche se sono un po' impegnato in quella settimana avrete sempre il vostro videino più lo short a giorno incredibile qualche news incredibile come al solito e poi ci buttiamo nel video incredibile allora prima cosa questo è il secondo episodio di quattro chiacchiere di cotto che vedete in poco tempo perché dovrebbe essere uscito sul canale il video recappone incredibile che io devo ancora finire di editare che però verrà a minimo un video di 40 minuti su tutte le conferenze che ci sono state in questa estate godosa partendo dal direct sony fino al direct nintendo che è stato pieno di soddisfazioni devo dire quindi avete visto quello e ora vi beccate pure questo bel video di quattro chiacchiere di cotto a tema wrestling incredibile poi ve lo dico subito non uscirà un episodio di quattro chiacchiere di cotto come minimo fino a metà a luglio poi non so se riuscirò a farne anche un altro a luglio di quattro chiacchiere di cotto in caso torneranno a parlare di argomenti sus oltre al wrestling da agosto incredibile perché questo cambiamento sus intanto sono contento che sono usciti due episodi di quattro chiacchiere di cotto in poco tempo quindi gg per noi nonostante tutto dico questo perché in questa settimana incredibile stanno per uscire un sacco di cose incredibili a livello di gameplay uscirà shadow of the earth l'espansione di elder ring che io riuscirò a giocare in full blind run ma prima di quella io devo finire la sus run quindi nei prossimi giorni mi devo chiudere registrare gli ultimi episodi della sus run di elder ring e poi iniziare la blind run su shadow of the earth incredibile e sempre in quella settimana dovevo registrare gli ultimi episodi di palward perché uscirà anche l'espansione di palward sakurashima incredibile quindi vi devo registrare anche quella incredibile che sarà pure quella un po blind perché sinceramente a parte il trail non so niente però la vera blind run sarà su shadow of the earth incredibile e poi sempre in quella settimana dovrei finire dark deception almeno la blind run e per poi iniziare gli episodi extra incredibili il resto delle serie sono finite notria abbiamo finito la demo anche se purtroppo c'è stato quel problema nel finale però ragazzi non ci posso fare niente anche stommaggia per adesso è finito se poi aggiornano la demo anche quella serie continuerà project playtime stagione 1 è finita e tranquilli uscirà anche la stagione 2 perché è tra le serie più belle del canale incredibili poi bootering waves continuerà tranquillamente registrano già altri quattro episodi che la metto nei momenti di buco e poi la serie di kenshin ovviamente continuare c'è lo spire l'abissato vi ringrazio ancora perché la serie di kenshin sta andando veramente bene quindi che ricordo sia con voi in calibri e poi c'è un'altra serie che ho registrato di nascosto sono circa tre episodi più l'episodio extra che registreremo insieme che è una serie horror simpatica che probabilmente vedrete a luglio mentre io registro la blind run di shadow of the earth quindi questo per farvi un recapino per quanto riguarda i tempi però adesso buttiamoci nel video in calipa oggi parleremo dell'ultimo pay per view targato da the big clash of the castle un pay per view che sinceramente mi ha fatto un pochettino girare le balle io capisco il build up della storia io capisco il futuro capisco il pay per view anche andranno avanti io capisco sammerson però secondo me c'è una legge sus nel mondo del wrestling in generale che quando c'è quel momento in cui una superstar deve vincere deve vincere può sembrare una regola stupida ma è così perché quando tutto si allinea la superstar è over il pubblico lo vuole l'universo lo vuole e tu non butti il carico in quel momento per cercare di guadagnare tutti i punti possibili da quell'occasione finirà che perderai malamente e quel momento non lo riuscirai mai più a raggiungere né tu che hai pensato a quel momento nella superstar stessa e questo è uno dei punti salienti di cui parlerò in questo video in testa ragazzi sigla in caribe e si parte eccoci qua incredibile la nostra postazione godosa delle chiacchiere di godo pazzesco e assurdo partiamo con calma e con godo innanzitutto la location la location è stata molto bella perché è stata fatto in scozia a glasgow incredibile infatti clash of the castle perché il simbolo dei castelli perché lì sai no è un posto medievale c'è un sacco di castelli incredibili quindi location top il pubblico un gran pubblico anche qui il pubblico europeo ragazzi rispetto a certe volte a certe puntate di roll dove il pubblico è proprio in silenzio morto il pubblico europeo si fa sentire caloroso urla in continuazione quindi anche quello gg una cosa negativa e non sto parlando di match ancora sono stati i bocci ne sono documentato un attimo a quanto pare le corde del ring che hanno usato in questo pubblico non sono state collaudate bene erano molto dure non erano flessibili come al solito infatti molti match hanno avuto delle piccole modifiche proprio per il fatto che le corde non volevano collaborare incredibile quindi questo sicuramente non ha aiutato alla qualità dei match però arriviamo adesso alla cicciapera primo match della serata code road contro aj style incredibili in un high quick match per l'annisputed ww championship incredibile sicuramente un match che mi è piaciuto forse match of the night guarda voglio buttarla così il match che probabilmente mi ha divertito di più della serata è stato questo e voi sapete che mi sa che l'ho detto in qualche video scorso del wrestling c'è un'altra regola nel mondo della ww quando un pay per view inizia con un match che è già troppo bello vuol dire che gli altri match sono una merda ora questa regola non è sempre vera però purtroppo è capitato in passato alcuni pervio sono iniziati bene e sono finiti malissimo comunque questo match mi è piaciuto tanto ripeto probabilmente il mio match of the night ha avuto un sacco di spot simpatici è durato pure parecchio sicuramente simpatico il fatto che hanno combattuto sia nel ring hanno combattuto fuori dal ring o serie forse uno dei migliori high quick match che la ww mai fatto perché di solito gli high quick match sono collegati a john cena dico questa battuta su john cena perché la ww sta cercando di dare l'immagine che codi rose il nuovo john cena e c'è un'altra citazione a questa cosa nel finale di questo match e ne parlerò tra poco quindi di solito quando io penso a quick match penso ai match di john cena contro di orton contro jbl ne parleremo tra poco contro battista non è una tipologia di match che secondo me sai no ti fa impazzire però se gestisci bene gli spot simpatici e qui non è ragazzi che ci siano stati spot assurdi però quelli che ci sono stati sono fatti molto bene hanno combattuto fuori dai ring sono arrivati fino a dove ripolei ci dice le cose incredibili la gorilla posizione incredibile poi sono tornati nel ring hanno usato un sacco di oggetti sedie candlestick però oltre agli oggetti la cosa più bella è stato il ritorno del blog del sangue incredibile che avevamo già visto con the rock quando aveva distrutto codi e vedere j style che fa sanguare codi ammetto che da quel pochino di spicy ragazzi ora non voglio star qui a dire oh mamma mia ma non è che ogni match deve avere il sangue ragazzi no per carità ho anche visto quei match estremi dove c'è il sangue perché la gente si becca col vetro in testa però secondo me il sangue in un fiù quando c'è veramente una rivalità incredibile fra due aumenta solamente il pathos nel match ragazzi ci sono stati un sacco di messi che grazie al sangue sono molto meglio sicuramente mi sto riferendo a tutti gli elina sell soprattutto quelli belli undertaker contro sean michaels triple h contro sean michaels batista contro undertaker ce ne sono un sacco di elina sell ragazzi epici e questo non vale solo per i primi elina sell incredibile che sai no l'elina sell una volta era famoso perché quando avevi due che non sapevi dove metterli li mettevi là dentro sfogavano tutta la loro frustrazione fino a distruggersi la vicenda e poi cambiavi feud no e lì allora il sangue ci stava bene però in generale ragazzi ripeto il sangue messo in certi punti aiuta tantissimo quando due persone si detestano vi devo fare l'esempio di stone cold contro bret art uno dei match più iconici nonché forse uno dei match preferiti di sempre della d'abbi da lui quella scena iconica di stone cold insanguinato è incredibile altra feature si fa di questo ma c'è stato il fatto che c'era mamma rose fuori da rigole negli stati di già il suo figlio alla fine comunque codi si libra da queste manette incredibile distrugge j style e lo spot finale molto carino ed è un'altra citazione a john cena che mi spiego subito nel finale o di sta per colpire e gesta con i gradini d'acciaio incredibili però lui dice ai quittà i quittà prima di esser colpito cody vince e poi fa questa cosa simpatia colpisce lo stesso e j style con i gradini perché giustamente ormai codi è diventato aggressive per riuscire a battere gesta e quindi conclude colpendolo incredibile bene questa cosa è l'ennesima citazione a john cena perché nel famosissimo match john cena judgment day 2005 contro jbl in un high quick match a parte che c'era una quantità di sangue quel match assurda il finale di quel match è molto particolare che c'è jbl che sta vicino a una lastra di vetro con john cena che sta per colpito mi pare con un tubo d'acciaio una cosa del genere e jbl dice ai quittà i quittà i quittà i quittà prima che john cena lo colpisca quindi john cena vince l'incontro ma che fa colpisce jbl lo stesso con questo dove jbl si schianta questa vetrata in questa l'ennesima citazione ha fatto che codi rosso è molto simile a john cena match molto buono probabilmente il mio match per brito della serata perché ha avuto un risultato finale decente e soprattutto si allaccia alla prossima storyline perché nel finale la bloodline attacca codi viene salvato a randy orton e kevin owens quindi probabilmente a money in the bank avremo questo six mentati con solo sokoa e la sua nuova bloodline incredibile contro codi kevin e randy orton e soprattutto in momenti in cui randy orton guarda il titolo di codi fa presagire che a summer's name avremo codi rose contro randy orton per il titolo che sinceramente è un feud che mi piace da morire perché loro due hanno una storyline incredibile partendo dalla legacy secondo me potrebbero abilitare un match molto simbario e probabilmente orton lo faranno diventare hill a seguire c'è stato il match per il tag team femminile con isla don albafire contro il team di bianca belè e ovviamente a nostra donata jet cargill e il team di china basler zoe stark incredibile all'avero dico subito non è stato un gran match ora questo match è stato suss ok ci sono stati bocce di jet cargill per ve l'ho detto per il problema delle corde però questo match perché ha avuto delle combo simpatiche ripeto a me il team di jet cargill e bianca belchia di da morire quando fanno le mosse in combo dove fanno vedere la loro forza incredibile le mosse sono bellissime pure perché ha joy stark e scena baser che fanno più le sottomissioni poi a sladon e albafire che fanno le furbe e sono stati spot simpatici oltre ai bocci incredibili però io capisco che erano nel loro città natale voleva dare una vittoria trionfante al pubblico però sacrificare il feud di bianca e jet cargill e nello specifico loro regno titolato per far vincere loro solamente perché sono nella loro città natale ragazzi cioè io capisco tutto ma a sladon e albafire non l'avete buildate per niente in oltre un anno che loro erano state già campionesse però poi nel main roster cioè non combattono da una vita non si vedono in televisione da una vita capito le fai tornare solo perché stanno in scozia e brava brava e li fai vincere cioè è quel contentino stupido cioè io tra farle vincere così e dargli un regno titolato inutile cioè farle perdere qui le buildi bene e magari a sanders ne fai un match decente fra loro contro jet cargill e bianca bellera le fai vincere lì ma buildate bene capito questo contentino così secondo me è privo di godo e mi dispiagno d'amore per jet cargill e bianca bellera io le avrei volute campionesse a vita per mesi mesi e mesi prima di farle lottare a vicenda invece hanno interrotto tutto molto prima mi dispiace veramente tanto ragazzi avrei voluto veramente che questo regno titolato continuasse per quanto riguarda scena base e di star non mi cambiava niente a loro e anche il finale un po su stanno fatte vincere un po in maniera furbetta perché non mi ricordo se jet cargill e bianca bellera avevano fatto la finisce arriva a sladon se non sbaglio fa un roll up e vince non mi ricordo se è lei che fa il roll up o lo fa alma fire comunque vincono con il fatto che la mossa aveva fatta jet cargill e bianca bellera e quindi nel finale pure molto su stanno approfittato nel vantaggio digitare che bianca l'area per ruffare e fare il pinfall incredibile quindi si mesce un po così il risultato sempre un po così capitano però arriviamo a quella cosa che mi ha fatto veramente 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 arrabbiare perché dico che mi ha fatto arrabbiare ragazzi se mi sei conto lo so ve l'ho già ripetuta mille volte questa ma secondo me se mi sei e io adoro se mi se mi sei lo seguo da quando era il generico che è in stile ringovore bra 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 però se mi sei non doveva essere colui che di fatto ha sconfitto winter ha presto e me l'uomo era chat gable io adoro chat gable è sempre stato il nuovo cortegno ragazzo mecca adesso diventato hill di la cortegno è sempre stato il nuovo cortegno ragazzi da quando era col team alfa in credito ragazzi non è possibile non è possibile che chat gable abbia perso di nuovo il titolo lui doveva vincere a esterni e doveva rimanere campione intercontinentale per mesi tra dei fiuti incredibili come ha fatto punta ragazzi non ce la faccio più a vedere chat gable trattato in questo modo e tra l'altro lui ha rifirmato con la tab da lui io spero che la tab da lui gli abbia detto e diamo un sacco di soldi abbiamo un sacco di storia per te però devi perdere il titolo intercontinentale sempre ragazzi non c'è altra alternativa ragazzi è assurdo nel ring adesso che è diventato fill ancora più interessante ragazzi la storia con otis non è quel che è perde di nuovo contro 6 misi ragazzi non gliela faccio più ragazzi questo è uno di quei momenti ragazzi chad gable adesso è oro sta facendo il work della sua vita e date il titolo cavolo no ancora 6 misi è in campione tra l'altro adesso 6 misi inizierà un film con brown breaker che spera a questo punto brown breaker distrugga 6 misi per favore però ho capito il match è molto buono ma mi ha fatto in nervosia troppo il finale ragazzi con otis e maxin con chad gable che dice a maxin colpici da mese e lei non lo fa otis colpici da mesi e non lo fa poi lui fa un moonsault colpisce la gamba di maxine otis porta via maxi nessuno aiuta calcio di 6 misi ne ci abbiamo il terzo è veramente un peccato il calazzo come questo match ha perso pure perché aveva bisogno di una stipulazione ragazzi secondo me il terzo match che fanno in soltanto di una stipulazione cavolo io l'avrei fatto un submission match il fatto che se misi sai no aveva la gamma infortuna da chad gable c'è più usare in collo però un submission match sarebbe stato perfetto in questo caso credibile e invece no match classico buon match ripeto senza stipulazioni il fiù definito io non so cosa faranno con chad gable ragazzi per quanto mi riguarda io vorrei l'incese money in the bank ma non credo vincere mai money in the bank tra l'altro ha debuttato finalmente la fazione dei wyatt 6 che per carità una botta al cuore ragazze che io l'ho detto io adoravo bray wyatt e quando dico che adoro bray wyatt adoravo le sue chimiche adoravo il suo modo di pensare ragazzi era così godo verso bray wyatt che voi non avete idea costruzano bellissime spero veramente che ha costruito bene questa cosa dei wyatt 6 però chad gable è stato distrutto da loro io non so cosa succederà sarà la fazione coi creed brothers vinceremmo in the bank io spero abbiano in mente un piano spicy per chad gable altrimenti ragazzi ci rimane veramente male incredibile passiamo al match femminile con piper nevin incredibile contro bay per il ww women's championship incredibile anche qui stesso feeling del match femminile di prima piper nevin è una incredibile atleta però tu non me la puoi mettere in un match titolato dopo che non me l'hai abilitata per un anno incredibile solo perché siamo in scozia anche qui il pubblico la adora il match è stato molto buono ha avuto pure un kick out pazzesco poi per me quando ha fatto la sua nota su bene con tutti che dicevano per me mi diceva bene ha perso divertentissima celsi green ragazzi io adoro celsi green non so come fate a criticarlo di certe volte leggo gente che detesta celsi green ragazzi celsi green è la rappresentazione in terra che tu puoi creare un personaggio divertente che ha senso nelle storyline e anche se nel ring magari non è sai no asca io sky però a livello di caratter è incredibile il fatto che lei venga cacciato dal ring e ritorni con la maschera di remistito facendo finta che un'altra persona è una cosa stupida sì ma non tutti riuscirebbero a fare una cosa così stupida e renderla divertente lei è stata bravissima quindi gg incredibile questo match mi ha divertito a parte il finale con bailey che vince ragazzi a questo punto bailey verrà sconfitta da naia jacks a sanderslam vedrete stesso feeling del match femminile di prima cioè che è stato costruito solo perché stanno in scozia e non perché credano veramente che questi contendenti al titolo incredibile vagano veramente tanto incredibile se fosse stata abilitata di più piper navy l'avese affrontato beh lì dopo ha regadito di più però che dovete e arriviamo al main event in drew mcintyre contro damon priest per il world heavyweight championship incredibile qui c'è una stipulazione sus cioè il fatto che in tutto il gruppo dei judgment era escluso dal ring perché se non sbaglio drew mcintyre aveva sconfitto Finn Balor quindi questa cosa ha senso nella storyline ha senso nel match quindi gg è la seconda volta che drew ha un match titolato in un pay per view in scozia ce l'aveva avuto con roman reigns e ha perso in maniera assurda adesso il secondo tentativo vincerà drew mcintyre incredibile assolutamente no è riuscito a perdere incredibile però nonostante il dolore di drew che perde questo match incredibile il finale di questo match ripeto nonostante il fatto che ho odiato che drew non abbia vinto il titolo qui nonostante questo odio per il fatto che drew non abbia vinto qui ed è la seconda volta che perde in un pay per view in scozia il modo in cui l'hanno realizzato è d'applauso è veramente d'applauso hanno pensato me però prima di arrivare il finale invece è stato molto buono c'è stato quel boccio assurdo di Damian Priest che si è incastrato la gamba e ho detto ecco fatto si è infortunato Damian Priest invece no pensate che eroe non si è infortunato per lui per tutto il match ha fatto finta di essere un po' infortunato nelle conferenze poi ha detto infatti io ho sconfitto di un match molto buono spot simpatici un sacco di kicks out una claymore contro Damian Priest fuori dal ring il kicks out nel ring insomma mosse potenti da questi due big beefy boy incredibili l'arbitro va fuori dal ring Drew McIntyre colpisce Damian Priest con la claymore arriva un altro arbitro e dico finalmente Drew McIntyre è campione e in questo modo il feud con CM Punk sarà ancora più spicy ma io non potevo pensare che la WWE aveste questo jolly incredibile quindi entra l'arbitro sul ring tu lo vedi di spalle il pubblico già l'ha visto tu invece che lo vedi a casa vedi l'arbitro di spalle nessuno avrebbe mai pensato a questa cosa incredibile l'arbitro fa 1 l'arbitro sono 2 e si ferma di colpa io perché non fai quel conto di 3 incredibile telecamera che si gira e idea era sempre e io ero lì tipo che faccio oh my god mi hai trollato maledetti però mi hai trollato in maniera godosa incredibile Drew attacca se in panche se in panche da uno blog penso che Drew ricorderà poi le prossime sette rincarnazioni Damian Priest fa la Choxton e rimane campione allora qui ci sono un sacco di cose da prima cosa ora CM Punk e quindi Kill o è sempre un tweener perché non è che si è cambiato nel feud tra Drew McIntyre e CM Punk chi è cattivo e chi è il buono è un po' susse questa cosa in clip poi adesso Drew ha raw acquittato ovviamente è storyline quindi probabilmente ridebutterà quando CM Punk sarà Chicago per rovinargli il momento e quindi quando sarà SummerSlam avremo un match tra loro due assurdo però non lo so sono da una parte felice per Damian Priest che adesso sfiderà Seth Rollins a morire in the bank quindi probabilmente Damian Priest perderà il titolo a SummerSlam contro Gunter perché litigherà con Finn Balor e bla 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 e quando dico litigherà con Finn Balor perché probabilmente finirà l'era Judgement dentro di te lo chiamo c'è pure Lynn Morgan dentro insomma ci siamo capiti quindi CM Punk ha vinto tra virgolette Damian Priest ha vinto per quanto riguarda Drew ragazzi mi distraggiamo perché Drew secondo me merita il titolo da morire questo suo work di Kill che sta facendo ormai da fine anno fino adesso è il migliore della sua carriera a mani in basse ragazzi a mani in basse mi dispiace che non è campione ve lo dico sinceramente però io sacrifico questo dolore al cuore se il feud Ego Sam Punk sarà a livello quello da bluista Castroni se lo fanno alzo le mani se non lo fanno ci siamo capiti e con questo si conclude clash of the castle incredibile ripeto per più nella media quella cosa di Chad Gabor ragazzi mi ha fatto nervosi in una maniera bestiale quasi di più per quello che è successo proprio Drew McIntyre perché io voglio Chad Gabor almeno fate di vincere morning in the bank ragazzi a parte questo momento Chad Gabor il match con Cody è molto carino il match femminile è un po' così siamo in hype per morning in the bank e vedremo cosa accadrà incredibile ragazzi che cosa siamo voi noi ci vediamo il prossimo episodio di quattro gack e ricordo che probabilmente arrivato sarà a luglio dove parleremo di morning in the bank e poi torneranno gli episodi quattro gack e ricordo con loro che ormai avete visto quello che è successo a godomenia quindi ci sono rimasti malissimo con uscire anche un nuovo special torneranno i costumi interribili e quindi anche lo torneranno a tormentarmi in questi episodi quattro gack e di godo pazzeschi assurdi e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio sigla e saluti ciao